Una risposta alla fame di parcheggi che c'è qui in questa città? Certo, la risposta che troverò da un'altra città è una risposta che comporta sacrifici, che costruire un parcheggio significa bloccare una strada, che significa rendere più difficile l'accesso ai negozi, significa anche per i cittadini avere lavori e ponte, poi il risultato è quello che è un'altra città. Sì, dalle buone notizie passiamo un po' con le note un po' dolenti, da domani i rifiuti ci saranno tanto il problema dove portarli, ci penserà l'assessore Romano, che siccome dice che non dobbiamo lamentarci, ci penserà, noi li prenderemo, li porteremo all'assessore Romano. Lei è preoccupata? Tanti di quei guai da preoccuparmi, non sono più preoccupata per la scarsa intelligenza di certi amministratori che per i comuni. Chiedo scusa signora, delle soluzioni che sono state... Grazie a tutti.